è un principio universale della vita un diritto umano fondamentale tutti devono avere accesso sufficiente quantità di alimenti nutrienti diversificati alla portata di tutti essi tutti tutto inizia dalla natura un viaggio dei nostri produttori alle nostre tavole ed è proprio lì che ci vediamo le nostre identità culturali giornata mondiale dell'alimentazione il cibo è un diritto ogni singolo giorno per tutti ovunque